Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo... Per chi non mi conoscesse, io sono Marika Spagnola e questo è il cretino del mio ragazzo. Scherzo, lo amo tantissimo. Comunque, sono le dodici? Sono le dodici, che ore sono? No, tutte le stelle, l'aria, me lo so, le donne. Come far arrabbiare un bidanzato? Tutorial. Comunque, sono le 11.30. Noi abbiamo già fatto colazione tipo un'oretta e mezzo fa e adesso siamo in piscina. Io ho preso questo costume. Sono un po' rossa nelle gambe, mi sto bronzando nelle gambe. E ho preso questo costume. Il sotto, non mi ricordo dove l'ho comprato. E il pezzo di sopra l'ho comprato su Shane. Ho preso soltanto il pezzo di sopra. Comunque, vi faccio vedere un po' la piscina e vi metto la fotografia dopo di cosa abbiamo mangiato stamattina. Allora, noi ci siamo appena collegati. Sono le 10.00-10.00, credo, o un quarto. E stiamo andando a fare colazione. Abbiamo dimenticato le mascherine in camera, quindi sono andata io a prenderle. Sono messita così, semplicissimo. Outfit da colazione. Ho ancora gli occhi impastati col cuscino, però va bene. Noi siamo arrivati in camera già da un bel po'. Io mi sono un po' truccata perché dobbiamo uscire. Sono appresso sì il colore. Non parecosa col fatto che sono vestita così in questo momento, ma sto provando vari outfit per uscire. Noi ci siamo adocciati, il mio outfit è questo e stiamo andando a cena. Ce l'ho io in carica. La sigaretta non ne hai, sono il sigaretta. Sembra un leone con i capelli. Allora, siamo al mare e abbiamo visto un robino. Cioè, io ho visto un robino. Dobbiamo vedere solo se il mio ragazzo mi fa contenta. Sarebbe qualcosa in là. Mi fai contenta? Sì, forse sì perché ci sta andando. Che bello però. Senti cariche. Ma era bellissima la vista, guarda. Amore, guarda. Guarda la bimba. Siamo messi. Che bello. Buongiorno. Io mi sono appena svegliata, sono da loro. All'amore mio. Mi ho portato la colazione in camera. Noi abbiamo lasciato l'hotel già da un pezzo e stiamo in centro a fare una passeggiata, prendiamo il gelato e poi ritorniamo verso Parma. Stamattina, terribile, dopo la colazione ci siamo riaddormenti tardi, ci siamo svegliati tardissimo. Comunque vi faccio vedere un po' di qua e lungomare e poi nulla. Poi dopo dobbiamo lasciare questo posto meraviglioso. Giusto, amore? Ci sta tipo un ponticello con il mare. Il mare è bene, non è male. Il funnale è scuro rispetto a quello che vediamo in Sicilia. Allora, per me è l'ultima granita all'ananas e lui come è presa? L'ubbio. Non è cosa. Non sei cosa. Anguria, anguria. Abbiamo finito le crepe, eccetera. Mi siamo fatto un bagno in mare, non scherzo, mettiamo l'acqua in capo. Chi vuole capire capisca, chi è in italiano un ceppallo, un ceppallo. E ora mi siamo... l'aria condizionato era in famiglia e inizia muoendo. Che cavolo! Qui stavamo già ritornando in casa, quindi eravamo in macchina sull'autostrada. Io avevo la faccia triste perché avevo lasciato un posto comunque sia di mare che mi ha ricordato molto la Sicilia. e invece il mio ragazzo era ignaro di tutti ed era concentratissimo a guardare la strada. Siamo arrivati. Stiamo scendendo le varie. Ma io non voglio stare a casa. Stiamo arrivando in vacanza. Ma che caldo! Andiamo a mare? Ma rimettile dentro! E la chiave la devo prendere, sennò come l'apro. Allora, sono arrivata in casa. Peppe è già andato al lavoro. Io mi sono seduta sul divano con le patatine. E sto guardando un film alla TV su Netflix. Ho svuotato di già la valigia di Peppe. Mentre la mia, ancora come potete vedere, è in mezzo alla casa da svuotare. Quindi, allora, io continuo a guardare il film. Nel frattempo ho preso l'acqua fresca che è la salvezza in questo momento. Il video si conclude qua. Vi mando un grosso bacio. Spero che il video vi sia piaciuto come al solito. E se vi piace mettete ovviamente like. Se non vi piace mettete dislike. Che ve lo dico a fa' Se già non mi seguite seguitemi nei social. E nulla, come al solito ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!